Sono scioccato perché ho visto i numeri e ho visto anche alcune condizioni. Riguardo le condizioni, vedere due bambini di 4 anni, di 4 mesi, di 18 mesi dentro delle celle insieme a tutte le altre detenute, quando io ho visto con i miei occhi circa 8 anni fa, quando l'allora direttore del carcere fece una sezione dedicata, specifica, per consentire alle mamme di avere i bambini in posti diversi. Questa sezione non è stata mai aperta e quindi vedere due bambini lì dentro è un colpo al cuore. Abbiamo il 75% più o meno in più dei detenuti rispetto a quello che massimo il carcere può ospitare, con il 25% in meno di personale. Quindi laddove abbiamo il 75% di detenuti, il 25% in meno di personale. Sul personale c'è una parentesi molto grave, cioè che hanno più di 12.000 giorni di ferie arretrate, hanno circa 50-60.000 ore di straordinario che sono obbligate a fare, perché ovviamente non riescono a coprire i turni e dare quel servizio e quella vigilanza che serve all'interno del carcere. Non mi faccio prendere in giro dal DAP, quindi informerò, visto che è stata aperta anche un'indagine rispetto al suicidio del ragazzo che è venuto ieri, quindi informerò la magistratura rispetto a delle eventuali responsabilità che il DAP ha nei confronti di questo carcere, perché rispetto all'interrogazione fatta l'anno 15-16 mesi fa non è cambiato nulla, anzi è peggiorata.